Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Oggi è domenica, diverse le iniziative che si stanno tenendo anche in centro, ad esempio il festival di internazionale con il tutto esaurito praticamente a tutti gli incontri, ma in questa edizione parleremo anche di agricoltura con il villaggio, col diretti a Milano dove c'è una folta partecipazione della delegazione ferrarese ed è intervenuta ieri Giorgia Meloni nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle scorse elezioni, ma in questa edizione parleremo anche dell'allarme lanciato da Ella De Bandini, noto batterista che ha detto che a Ferrara non ci sono sale da ballo, ma in questo fine settimana è tornato lo sport con la Serie B e la SPAL sconfitta ieri allo Stadio Mazza, ma sempre in ambito sportivo, oggi giocherà il basket con la prima partita della stagione, ma andiamo con ordine, partiamo appunto dal festival di internazionale a Ferrara, oggi ultimo giorno tutti esauriti gli incontri per un ritorno della rassegna all'insegna della partecipazione, ieri tra i vari appuntamenti iniziativa internazionale si è dimostrato solidale con le proteste in Iran, i diritti delle donne ci riguardano tutte, ha detto la giornalista Valeria Manieri al termine dell'incontro l'energia delle donne nell'ambito del festival a Palazzo Naselli Crispi e come vedete insieme ad altre colleghe hanno tagliato una ciocca dei propri capelli in segno di vicinanza delle rivendicazioni in atto in Iran, internazionale a Ferrara è solidale con le donne iraniane, ha ribadito e commentato Chiara Nielsen che è direttrice del festival di internazionale, come vedete questa l'iniziativa che si è tenuta ieri. Prosegue appunto il festival tra i vari appuntamenti, quello di venerdì nella sala Rengo in cui Acer a Ferrara ha presentato il proprio volume in occasione del centenario parlando di etica e politica della casa lanciando anche diversi allarmi, diversi dibattiti, ad esempio quello delle diseguaglianze e delle difficoltà di trovare una casa, del problema a casa insomma, ma sentiamo le interviste. Dalla storia cosa possiamo trarre al giorno d'oggi per migliorare quello che sono gli alloggi popolari e quello che è un concetto urbanistico che appunto è all'interno del libro? Intanto bisogna definire un po' la storia, diciamo che nella storia recente dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento le città europee hanno elaborato dei modelli di intervento che riguardano l'abitare sociale ma che riguardano anche proprio l'organizzazione igienica della città, oggi diremmo ecologica, allora non si usava questo termine, molto importante, che ci hanno lasciato un patrimonio di idee, di riflessioni, di proposte, ahimè non sempre applicate, in particolare nel nostro paese e quindi credo che uno sguardo anche critico rispetto a questa esperienza sia molto importante visto che oggi si, spesso come dire, si diffondono delle retoriche che sono legate al verde, legate ai 15 minuti, cose di questo tipo che sono delle banalità perché sono modelli che sono stati ampiamente sperimentati e si tratta di farli. Noi abbiamo le risposte che ovviamente sono tutte da valutare però ad esempio aumentare l'apporto del pubblico, valutare una forte partnership tra le imprese private di costruzioni e come dire l'amministrazione locale che possono in qualche modo aumentare sempre più un'offerta a cui si possono in qualche modo riferire ceti che si stanno sempre più impoverendo e che non hanno quelle possibilità di accedere a una casa a prezzi di mercato ma che in qualche modo attraverso queste convenzioni col privato e l'allargamento dell'intervento pubblico possono ottenere una loro risposta al bisogno della casa. A fronte dell'aumento delle disuguaglianze nei redditi, a fronte dell'aumento dei lavoratori poveri che avrebbero bisogno quantomeno di una casa popolare per potersi sostentare al meglio visto che i redditi nel nostro paese per molti giovani viaggiano al di sotto dei mille euro al mese e dunque quello che si potrebbero permettere in termini di affitto è poco più di una casa popolare. Quindi su questi temi incalzare la politica affinché i temi dell'abitare tornino a essere dei temi principali, ricordo che il diritto alla casa è un diritto costituzionale, tornino a essere spesi dalla politica del nostro paese e si torni a fare investimento sulle case per chi ha più bisogno. A proposito di politica, Giorgia Meloni nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria delle elezioni ieri a Villaggio Coldiretti di Milano ha firmato la petizione mondiale per fermare lo sbarco a tavola del cibo sintetico, lo ha annunciato appunto durante il Villaggio Coldiretti davanti a migliaia di agricoltori arrivati da tutta Italia a Milano, era presente anche una folta delegazione di agricoltori di Coldiretti Ferrara a partire dal presidente provinciale Floriano Tassinari, ai consiglieri di zona, ai componenti della giunta esecutiva della Federazione Ferrarese con molti soci a condividere questa iniziativa, presente anche il direttore Alessandro Visotti e sentiremo le interviste nel corso dei prossimi telegiornali. E ora parliamo di telecontrollo e automazione per la gestione delle acque, questo è il titolo del convegno tecnico che si è tenuto a Palazzo Naselli Crispi organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara dove è stata presentata un'importante innovazione per monitorare gli impianti in maniera tempestiva alla luce dei cambiamenti climatici, innovazione che ha recentemente ottenuto anche il brevetto. Un sistema innovativo e brevettato che consente agli operatori di controllare e agire sulla maggior parte dei manufatti idraulici del territorio. È il telecontrollo, tema al centro del convegno tecnico organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che si è tenuto a Palazzo Naselli Crispi e che ha visto la partecipazione di oltre 50 tecnici provenienti da tutta la regione. Questo è un momento di condivisione di quello che si è realizzato in dieci anni e forse anche di più perché si è dovuti affrontare un'unificazione fra consorsi dove si partiva da telecontrolli diversi, a volte anche incompatibili e la sfida è stata proprio quella di trovare un denominatore comune per poter arrivare a una piattaforma unica di condivisione. Ma si è fatto di più perché oltre al telecontrollo si è anche fatto un'esplorazione sull'automazione e qui proprio c'è il punto fondamentale che è stato quello di trovare un metodo per far lavorare le nostre idrovore e con il quale siamo riusciti anche a portare a casa un brevetto, un brevetto proprio che ci rende orgogliosi di questo perché è frutto di studi, di applicazioni e di fatica in tanti anni passati. Noi con questo sistema di telecontrollo che cosa facciamo? Riusciamo a svuotare questa grande vasca che sono i nostri 4200 km di canale in un tempo molto più breve. Come? Perché non abbiamo degli uomini che operano ma un sistema tecnologico centralizzato. Questo è quello che abbiamo messo in campo. Allo stesso tempo ovviamente riusciamo ad essere più immediati per quando diamo un servizio idrico ai nostri agricoltori quindi all'attività primaria che è un bene fondamentale. Tutto questo appunto siamo riusciti a farlo grazie alle maestranze del consorzio che hanno progettato, realizzato e sviluppato questo sistema tecnologico in house, in casa. L'abbiamo appunto fatto e l'abbiamo brevettato attraverso le nostre esperienze. Questa è la dimostrazione della capacità di innovare e di raccogliere le sfide appunto del 2030 che riguarda la sostenibilità. Da ultimo questo è un sistema che ci dà la possibilità di risparmiare energia elettrica perché è un sistema intelligente, è un sistema virtuoso anche per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti energetiche quindi riusciamo ad essere più performanti sulla sicurezza idraulica, garantire acqua agli agricoltori al contempo spendendo anche meno risorse consumando meno energia elettrica quindi dandone un beneficio all'ambiente. A Ferrara non ci sono sale da ballo. La denuncia arriva da Ella De Bandini, noto musicista e batterista. Lei ha detto oggi che non ci sono più sale da ballo in città. Ma da quello che ho sentito dire dei ragazzi che suonano di Ferrara che hanno dei gruppi di orchestra da ballo si devono spostare nel Bresciano, Bergamasco, Milano, Piacenza, Modena cioè fuori, sembra che Ferrara e gli intorni non ci siano più sale da ballo. Io ho stato fortunato quando ero giovane solamente a Ferrara c'erano 7-8 sale da ballo e la Lucio, l'Arlechino, l'Afro Club. I ragazzi non avevano bisogno di spostarsi per forza per andarsi a divertire. Si trovavano, si trovavano delle compagnie bellissime, delle orchestre meravigliose suonavano e suonavano tutti in un modo diverso. Se uno voleva sentire qualcosa di diverso andava a sentire un'altra orchestra ma non suonavano tutti uguali. Tante sale da ballo, tanto lavoro e pochi ragazzi che... insomma viaggiare con la nebbia è un problema. Ma le chiedo, secondo lei perché? E non lo so perché le cose cambiano, le cose cambiano, è giusto che cambiano ma a volte serve anche giusto fermarsi e cercare di riprendere le cose giuste. L'appello a chi lo facciamo quindi? Ma io penso che provare ad aprire una sala da ballo, chi ha il coraggio di aprire una sala da ballo, di fare suonare all'orchestra. Qui ci sono delle scuole, qui intorno a Ferrara, delle scuole di musica importanti. I ragazzi hanno bisogno di sapere com'è il lavoro, qual è il lavoro. Il lavoro è stare davanti alla gente, con della gente in questo caso se vuoi fare da ballo che balla. Quindi se uno ha un posto in una scuola per fare la sabato sera, far suonare gli studenti, gli allievi di questa scuola e far ballare, farsi ritrovare i colleghi che ballano con le famiglie, con i genitori così, sarebbe una cosa meravigliosa. Magari arriva qualcuno che ha la possibilità e dice aspetta che apre una sala da ballo vera in questa città. Sanità adesso ha preso il via l'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Importante anche il ruolo del volontariato. Sentiamo allora Marcella Marchi, che è dottoressa e presidente Andos di Ferrara, intervenuta durante la conferenza di presentazione delle iniziative. Andos opera nel nostro territorio da decenni. Pertanto le cose, fortunatamente dal punto di vista chirurgico, anatomo-patologico, sono cambiate molto, così anche le nostre attività, che però in sostanza sono dedicate alla riabilitazione fisica e psichica della donna operata. Questo è molto importante per riportare la donna nella sua armonia del pre-intervento. Assieme a questa attività, che è la preeminente, noi facciamo tante altre cose fisiche, diciamo adatte a quello che riteniamo manchi sul territorio dal punto di vista delle strutture pubbliche, per cui corsi di pilates, nuoto, canoa, abbiamo la fortuna di avere una grande scuola di canoa, per cui cerchiamo di integrare quello che darebbe la sanità pubblica. Però nel nostro statuto è sempre stato scritto, quello è, di 40 anni fa, che Andos deve anche preoccuparsi da sola o con le istituzioni, come per esempio l'esempio dell'Ottobre Rosa, di fare da sola o congiuntamente con le istituzioni tutti gli eventi che abbiano il carattere di educazione sanitaria sul territorio. Noi riteniamo che la conoscenza delle persone su certe tematiche, nel mio caso è chiaro, il tumore della mammella, porti anche un miglioramento della compliance, cioè del fatto che la donna, col tumore della mammella, aderisca in un modo molto più convinto alle terapie proposte. Se tu conosci, scegli veramente, non è che uno scelga per te. Ecco, diciamo che le nostre attività sono in questo senso. Sport adesso, basket, campionato al via oggi per il club alle ore 18, si comincia con l'impegno casalingo contro Udine, ce ne ha parlato Mauro Cavina nell'ultima puntata di Match. Chi l'avrebbe mai detto che a una settimana dell'inizio del campionato il club cambiasse presidente, perché è stato facciato anche un cambio ai verti della società, e sponsor, quindi ferrà il benvenuto a Tassi Group, che sarà il main sponsor della squadra, sicuramente per quest'anno e speriamo anche per gli anni a venire. Quindi c'è stata una mezza rivoluzione proprio alla vigilia dell'inizio del campionato. E direi che finalmente inizia il campionato, perché come dicevi tu, a Match si parla di basket già da molte settimane, e quindi finalmente inizia questo campionato di A2, al quale parteciperanno sia Tassi Group Ferrara che Trameccento. L'estate per Ferrara è stata molto travagliata, l'abbiamo detto più volte, si è stata addirittura a rischio di non iscriversi al campionato, però alla fine ce l'ha fatta, ha fatto ovviamente una squadra con occhio molto attento al budget, e chissà che con l'arrivo del nuovo sponsor non ci sia qualche innesto, perché sì, questa squadra parte ovviamente con i benefici del pronostico, i favori del pronostico, soprattutto nella sfida d'esordio, perché domani alle 18 alla Giuseppe Bondi Arena arriva Udine. Udine che è una schiacciassassi, una squadra costruita almeno da tre anni per andare in Serie A, quest'anno lo è forse più di prima, con un nucleo di italiani fortissimo, ha fatto una buona prestagione, non è riuscita a vincere la Supercoppa, perché è uscita già nella prima giornata, però sicuramente sarà una partita molto, 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 molto difficile domani, e direi che il pronostico è a favore degli ospiti. Esordio anche domani, e un'altra partita di cartello si giocherà a 100, perché alla Miluocchi di Nelli Arena si giocherà niente meno che il derby, diciamo delle mezze bolognesi, o meglio di una bolognese che è la fortitudo, e di 100 che si sente bolognese, lo sappiamo, quindi sarà un po' la sfida di cartello, la gara di giornata, perché sarà a 100 contro fortitudo Bologna. Calcio adesso brutta sconfitta per la SPAL, ieri Almazza superata dal Genoa per 2-0, sentiamo il commento di Alessandro Sovrani. Alla tirale delle somme, qualità, esperienza, struttura fisica, emergono il Genoa, ha portato a casa questa vittoria sul campo della SPAL, sconfitta 2-0, che ha visto mettere fine alla sua serie positiva di risultati, che quindi si ferma a quota 5. Una SPAL che è avventurato, aveva presentato con Dallemure in sostituzione dell'infortunato Vanier, e zanellato sulla tre quarti, vista l'indisponibilità di Emaistro. Per il resto, tutto come previsto. Una SPAL che aveva iniziato anche bene la gara, cercando di aggredire gli avversari, di costringervi nella loro metà campo, e con un Genoa che sembrava soffrire. Con il passare dei minuti, però, emergeva il maggior tasso tecnico, la maggior fisicità degli uomini di Blessing, che andavano vicini al gol al tredicesimo, con la conclusione di Yalsing, che veniva respinta con un ottimo riflesso da Alfonso, che ribatteva con i piedi, dopo essersi fatto trovare in contropiede. La SPAL che provava a portarsi in avanti, ad alzare i baricentri, ma non erano in giornata i centrocampisti, in particolar modo Proia e Valtania, così come zanellato. L'unico a salvarsi nel settore nebralgico, come ormai siamo abituati a disputare una buona gara, è il risultato esposito. Al diciannovesino, però, il Genoa passava, cross dalla sinistra di Paiac, che ha spinto molto sulla corsia, così come sul fronte opposto ha fatto Sabelli, usciva smanacciando malamente il pallone Alfonso, sfera che arrivava dalle parti sulla destra, in piena area di rigore a coda, che calciava in diagonale un pallone che forse non sarebbe nemmeno terminato all'interno della porta bianco a turra, però lì sarebbe stato pronto Gusmsen, che ha costretto Dickmann ad un tentativo in grande affanno, così spedendo il pallone alle spalle del suo portiere. A questo punto ci si è resi conto come la sparsa avrebbe avuto grandi difficoltà nel tentativo di rimontare. Comunque al 34esimo, sul lungo lancio di Dallemura, che ha disputato una discreta gara, c'è stato un contatto poco al di fuori dell'area di rigore tra il portiere Martinez e la Mantia, semplice cartellino giallo per quanto riguarda l'estremo difensore spagnolo del Genova. Chiara occasione da gol? Non è così perché la Mantia non era in possesso di palla e queste sono le indicazioni dell'Aia. Se non sei in possesso di palla non si può parlare di chiara occasione da gol. Si potrà rispondere, controbattere, ma come avrebbe fatto di impossessarsi del pallone la Mantia se non ci fosse stato l'intervento, se ci fosse con l'intervento irregolare? Insomma tutto da rivedersi, però diciamoci la verità che l'interpretazione data da Colombo e dai suoi colleghi in Salavar può essere anche accettabile. Svalchi cercava con orgoglio, determinazione e tanta volontà di portarsi alla ricerca del gol del Parigio che veniva sfiorato proprio all'ultimissimo secondo del primo tempo su angolo di Espolito, colpo di testa della Mantia, alto di un soffio, scazzare in gol all'urro del gol ai 12.000 di cui diciamo ciò che tra oltre 1.000 giunti da Genova presenti al Paolo Mazza. Secondo tempo con Blessing che si rendeva conto delle difficoltà della coppia dei suoi difensori centrali tra l'altro entrambi ammoniti cosicché lasciavano degli spogliatoi il Sanchere e Vogliacco che venivano sostituiti da Bani e Dragosin che non avevano più alcuna difficoltà nel confronto di un Moncini sottotono e di la Mantia e due, è anche giusto ricordarlo, raramente sostenuti a dovere dai compagni di squadra cosicché la Genova si limitava pressoché esclusivamente a fare possesso palla non concedere spazi agli avversari aveva anche un paio di opportunità in contropiede che però sprecava banalmente poi la chiave di volta decisiva del Mesa al 31esimo brutto fallo di Meccarello che entrava con il piede a martello a centrocampo su Iagello arrivava dopo una verifica a bordo campo il cartellino rosso Meccarello che quindi salterà la trasferta di sabato a Farosinone poi al 43esimo la rete del raddoppio Zanellato si faceva rubare palla da coda al limite dell'area la sfera schizzava dalle parti di Guzman che aveva tutto facile aveva completamente via libera per realizzare il gol del 2-0 e mettere definitivamente in saccoccia i tre punti inutile nasconderlo c'è questo discorso legato proprio alla differenza di valori di base tra le due squadre una spalla che va rivista ma rigidicata in occasione dei prossimi confronti certo è che qualche giocatore ci riferiamo in particolar modo ai centrocampisti eccezione fatta per esposito qualcosa in più lo devi assicurare e con questo è tutto vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona domenica grazie a tutti